È la prima volta di tante cose, è la prima volta dopo 5 o 6 libri che ho scritto che c'è un altro che ci ha messo le mani, ho la mano. Io sono assolutista sempre in questo caso, avrei voluto farlo io da solo, però ho capito che Marco Ercole, senza fare il nome, che è il giornalista sportivo più pratico di me, aveva già fatto le interviste a molti attori del film, a molti giocatori veri e quelli che fanno finta di fare i giocatori. Venne a fare l'intervista a me, che io gli ho chiesto perché questa intervista, e Marco Ercole mi fa perché sto scrivendo un libro sull'allenatore del pallone, e che cazzo vuoi da me, io sono il protagonista del film, lo scrivo io il libro, c'è bisogno che lo scrivi tu. Allora mi ha spiegato, ha detto no, se tu vuoi possiamo farlo insieme, io faccio le cose tecniche, cioè queste interviste sportive con le tecniche del gioco, le cose più tediose, chiamiamolo così, e tu fai tutti gli aneddoti del film che è quello che aspettiamo tutti, eccetera, eccetera. E così abbiamo fatto. Il libro è curioso perché è fatto di due tipologie di carattere, che quando parlo io e quando parlo lui, ma si capisce che lui è più tecnico. Io dovevo insegnare ai ragazzi dei metodi nuovi, a me era venuta in mente la bizona, come quello con la pipa fa la bizona, il barzotti, io voglio fare la trinzona, ma poi ho detto no, è meglio la bizona oppure il calcio di rigore a pettine, a pettine però, a pettine quello stretto, queste erano le stronzate. E poi improvvisamente mi venne in mente, e poi non facciamo il 4-4-2 come fanno molti, io voglio fare un metodo nuovo, 5-5-5, e mi venne in mente lì. Devo dire con la grande approvazione di Sergio Martino, che è sempre stato d'accordo con me, il regista, perché delle volte ci può essere il regista che dice no, questa no, oppure ti dice sì e poi la taglia al montaggio, invece no. E quella è quella che è rimasta, che io feci il telegramma addirittura da Ancelotti a Paris Saint Germain, rappelettuale 5-5-5, o se capita a qualcuno in inglese dovrò dire 5-5-5, così faccio vedere che sono fuori grotta.